La tecnologia può avere questo impatto destabilizzante Ma bisogna provare a capire e coglierne l'opportunità L'Accademia sarà un luogo di propulsione al futuro E visto che siamo qui mi piace cogliere l'occasione Per parlare dell'intelligenza delle piante C'è un'immagine molto forte che trovo rivoluzionaria Che è quella di una pianta connessa alla tecnologia Possiamo imparare tantissimo dalle piante Perché sono organismi pionieri che hanno un'intelligenza diffusa Il focus non è sulla macchina Ma sulle relazioni umane che si costruiscono anche attraverso la macchina Vogliamo creare uno spazio d'incontro tecnologico e connesso Dove il barista è in contatto con il coltivatore È un percorso formativo adaptive Anche grazie alla tecnologia Cisco Che ci aiuterà a rendere speribili le competenze acquisite Grazie all'utilizzo di questa tecnologia Potremmo attivare la community O organizzare una piattaforma per costruire relazioni La filiera del caffè è sempre stata monodirezionale Oggi cambia Grazie alla tecnologia di Cisco Stiamo creando uno spazio tecnologico ed interconnesso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti